Oggi andiamo a riconoscere una delle più importanti patologie fungine sul pomodoro, la peronospora, andiamo a vedere come si riconosce, quali sono i danni che fa, cosa possiamo fare, quali sono i trattamenti che vi consiglio, andiamo subito al video. Parliamo oggi velocemente della peronospora sul pomodoro, è una patologia fungina che interessa a tutti gli organi vegetativi della pianta, foglie, stelo e frutti. Inizialmente la patologia fungina si presenta come stiamo vedendo qui, in questo modo qua, la foglia inizierà dal suo verde bello brillante a decolorarsi, a presentare queste macchioline che tendono al giallino, le macchie sono sempre irregolari, molto ampie, pian piano la malattia prosegue il suo processo e queste macchie diventeranno sempre più grandi e sempre più gialle. Se ci sono condizioni di alta umidità sulle zone colpite può anche presentarsi una muffetta bianco grigiastra, le macchie poi pian piano saranno sempre più gialle ed inizieranno a comparire alle zone necrotiche. Che cosa significa necrotiche? Significa che iniziano a disseccarsi, come stiamo vedendo in questa foglia qua. Quando gli attacchi sono forti e noi non poniamo rimedio, si ha una debilitazione della pianta, ci sono interi palchi fogliari che iniziano a seccarsi, come stiamo vedendo qua, e la patologia inizia dalle parti dei palchi fogliari più bassi e si sposterà verso l'alto. Anche i rami non sono risparmiati da questa patologia fungina, iniziano a presentarsi delle aree depresse che iniziano a diventare prima, marroncine poi seccheranno, necrotizzano. Questa patologia fungina può anche colpire i frutti verdi che si presenteranno con delle macchie circolari lucide di un colore verde olivastro. Le condizioni di proliferazione di questa patologia fungina sono alta umidità e temperature che stanno tra i 20 e i 25 gradi. Come possiamo difenderci da questa patologia fungina? Siccome prospera nelle zone umide, cerchiamo di rispettare i sesti d'impianto, non facciamo piante troppo folte o fitte, perché lì se c'è umidità la patologia fungina può proliferare molto più facilmente. Possiamo eventualmente andare a sfoltire quelle piante dalle femminelle se sono a crescita indeterminata ad esempio. Occorre sempre fare prevenzione contro le patologie fungine, quando noi notiamo il danno però possiamo cercare di porre dei ripari. Come dobbiamo fare se abbiamo la possibilità andiamo ad eliminare le foglie malate colpite, le allontaniamo dal nostro impianto e poi successivamente andiamo a fare un trattamento a base rameica. Le dosi sono sempre scritte nelle confezioni, rispettate gli intervalli di tempo, trattate sempre in tarda serata in modo che i fiorellini dei pomodori saranno più chiusi possibili e cercheremo di non bruciarli, avverrà quindi la completa allegagione del frutticino. Vi saluto qui ragazzi mi raccomando sempre in gamba prodotti biologici, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, iscrivetevi se non l'avete fatto, ciao ragazzi!